Sono Federico Deo, urologo, mi fa piacere parlarvi e spiegarvi che cos'è il progetto Uomo360, con la quale insieme a degli amici e dei colleghi di altissimo livello stiamo cercando di dare una risposta all'uomo, al benessere maschile e alla prevenzione oncologica e al trattamento di tutte quelle patologie che l'uomo ha, sia da giovane sia in età un po' più avanzata. Il progetto Uomo360, come dice la stessa parola, abbraccia a 360 gradi l'uomo e il suo benessere e la sua qualità della vita. Particolare attenzione verrà data alla disfunzione rettile e alla cura in tutti i suoi aspetti, quindi sia con tecniche minimamente invasive, con farmaci, sia con tecniche chirurgiche come l'impianto di protesi peniena. Affidarsi a Uomo360 vuol dire affidarsi a un pool di esperti che hanno in mente il benessere maschile. Grazie.